e benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise parliamo del campionato di serie D lavoro intenso a Campobasso ieri l'incontro in comune con il neosindaco Antonio Battista per discutere dell'impianto di Selva Piana Curva Michele Scorrano che come sempre tiene banco ogni estate operazioni di mercato in entrata proseguono le trattative del club rosso blu in lista due attaccanti circola nei nomi di Ambrosini ex Ancuna e Croce ex Turris I rappresentanti del Campobasso si sono incontrati con il primo cittadino Battista proprio nella giornata di ieri occasione giusta per parlare della struttura di Selva Piana che versa in condizioni precarie ormai da anni anche se la gravità della situazione si è accentuata negli ultimi mesi l'incontro con il primo cittadino è stato il primo e necessario step per addivenire finalmente a dei lavori sull'impianto che ormai sono improcrastinabili tra l'altro alcune di queste opere saranno condizione necessaria e sufficiente affinché la FIGC possa accordare alla società rosso blu il placet a giocare nel catino di Selva Piana il prossimo anno delle vere e proprie prescrizioni dai saudire entro una data che non è poi così lontana nel tempo quel 14 luglio entro cui dovrà essere tutto pronto per iscrivere il Campobasso in serie D i dirigenti del Campobasso e il sindaco Battista si sono dunque ripromessi di fare una ricognizione a Selva Piana volta a effettuare le dovute verifiche sulle cose più impellenti su cui intervenire stante la disponibilità delle risorse ormai sbandierate da anni e finora mai utilizzate il comune di Campobasso passerà a preparare un progetto e relativa gara di appalto le problematiche deviso più urgenti sono senza dubbio l'imbottitura delle panchine ma anche lo stesso manto erboso su cui c'è stato un intervento di restyling verso la fine dello scorso campionato i lavori ritenuti meno inderogabili potranno essere svolti anche nel corso del campionato stesso da considerare che l'aspetto positivo è che qualcosa finalmente si muova anche se si è dovuto prima attendere un cedimento strutturale strutturale letteralmente fisico dell'impianto prima di rendersi conto della gravità della situazione a volte la macchina burocratica e pachidermica è tendente solo a congelare per mesi se non per anni il corso di eventi su cui si dovrebbe solo imprimere una netta accelerata è stato il caso di Selvapiana per il quale gli ormai famigerati 800 mila euro sono nella mente di tutti ma chiusi nel cassetto perché nel corso degli anni lento iter burocratico li ha parcheggiati proprio lì infine c'è da registrare che siamo davvero prossimi al passaggio del campo basso da associazione a società responsabilità limitata anche questo fatto era ed è abbastanza atteso ed è in agenda per la prossima settimana la società inoltre spera anche di chiudere altre trattative per inglobare ulteriori forze imprenditoriali nel tessuto connettivo rosso blu dopo gli ingressi di perrella e santoro citati in rigoroso ordine cronologico di arrivo si può dire che il lavoro di un anno dalla formazione del comitato stia iniziando a portare i suoi frutti ai nostri microfoni l'attaccante rosso blu confermato vitelli sarà un campionato difficile però noi siamo il campo basso quindi cercheremo a tutti i costi di fare bella figura per noi per la città e per i tifosi perché sono merito il tuo futuro ultima domanda rimare al campo basso non si sa ancora è presto no non si sa ancora è presto comunque io ho un ottimo rapporto con tutti società mister squadra e tutti quanti quindi se eventualmente non dovrebbe essere una riconferma sarò il primo tifoso del campo basso se dipendessero da te rimarrai sì sì se dipendessero da me rimarrei subito a termoli va a rilento la raccolta fondi del comitato gente di mare i tifosi attendono un incontro con il sindaco prima di investire nell'azione adiato popolare i cittadini auspicano che l'amministrazione comunale in primis possa dare slancio fattivo al calcio giallo rosso ad agnone lavoro intenso di melloni sabelli ed urbano per l'allestimento della rosa 2014 2015 si attendono delle risposte per alcune riconferme mentre mercoledì al civitelle primo stage per i fuori quota l'associazione gente di mare di termoli non rallenta le operazioni per tentare di fungere da spalla la società del termoli calcio oltre al già noto sistema di azionariato popolare i giallorossi si stanno concentrando nel tentativo di mettere in pratica quante più iniziative a sostegno del sistema calcio in città in primis attraverso il reperimento di nuovi sponsor dello stesso suo avviso anche nicola cesare che proprio ieri ha avuto un dei colloqui con imprenditori interessati alla realtà calcistica basso molisana il primo summit ha fatto in modo che ci fosse una prima conoscenza proprio tra i membri dell'associazione e la società stessa se è vero che le sottoscrizioni stanno andando a rilento e sull'appoggio del comune che adesso devono essere puntati fari e infatti noto quanto il sostegno dell'amministrazione possa favorire uno slancio necessario e concreto per continuare la striscia di risultati positivi che hanno favorito il termoli l'associazione gente di mare ha già lanciato l'amo per raccogliere quanti più fondi possibili mentre dall'altra parte i cittadini vogliono a gran voce appurare se concretamente il calcio anche per la prossima stagione sportiva sarà protagonista a termoli il mese di giugno sta avvolgendo al termine in alto molise proprio non si respira aria di vacanza gli alto molisani granata infatti non cessano i lavori per mettere a segno una rosa che possa essere quanto più competitiva per la prossima stagione in cui a rappresentare il molise ci saranno ben tre società ma soffermiamoci sui granata sabelli e compagni si sono concessi tempi molto stretti per affinare la rosa i primi incontri per definire quanto più precisamente l'organico che scenderà in campo dal prossimo settembre inizieranno già dal pomeriggio di oggi i primi nomi a circolare con contratti alla mano sono quelli di ricamato e litterio da lunedì prossimo poi a poco a poco i vertici societari dell'olimpia agnonese incontreranno naturalmente anche gli altri giocatori tra questi senza dubbio ce ne sono alcuni cui il team granata guarda con più attenzione in modo da non perderli anche se l'intero staff si è detto soddisfatto dell'intera rosa insomma ci vorranno altri giorni per avere una idea più chiara su quello che sarà il futuro della squadra il mister corrado urbano sembra avere già le idee chiare in merito e di sicuro la sua opinione avrà una valenza più che fattiva intanto già per il prossimo 25 giugno gli altomolisani hanno organizzato un raduno aperto ai classe 95 96 e 97 così da avere una più ampia definizione sulle volontà dei granata insomma quanto pare l'olimpia non ci sta a prendersi una pausa l'obiettivo è quello di riconfermare o trasformare almeno in parte una rosa che per la prossima stagione deve dare il meglio che può cinofilia domenica santa croce di magliano torna l'appuntamento con il contato del molise struttura all'avanguardia nel molise e più in generale in tutto il territorio nazionale che si occupa delle razze da lavoro meridionali un raduno di appassionati organizzato come sempre dal dottor flavio bruno che è certamente uno dei massimi esperti di cani corsi e di tutte le altre razze che vengono proposte dal contato nell'occasione sarà presentato anche l'ultimo libro proprio sui cani corsi che sintetizza una serie di articoli pubblicati dal dottor flavio bruno calcio giovanile stilato il programma della 22esima edizione del torneo di corpus domini domani il via la kermess giovanissimi organizzata dalla scuola calcio acli il capoluogo molisano si prepara alla sagra dei misteri del corpus domini con uno degli eventi estivi più attesi per il calcio giovanile il torneo internazionale di corpus domini nel ricordo di antonio rauso e antonello toti la kermess riservata alla categoria giovanissimi ospiterà quest'anno formazioni importanti nel panorama giovanile italiano come lazio bari pescara avellino e juve stambia da fuori nazionali dalla grecia il panionios rappresentati a molise diretta a carlo oriente e i padroni di casa delle acli di peppe ed elia difenderanno i colori della nostra regione l'evento giunto alla 22esima edizione è stato organizzato in maniera scrupolosa dalla scuola calcio acli con un programma ricco di impegni domani mattina a partire dalle 10 presso l'hotel san giorgio si svolgerà la presentazione ufficiale ma il clou dell'evento prenderà il via alle 14 e 30 di domani con il fischio di inizio delle gare le fasi di qualificazione si disputeranno su due campi secondo il programma si sfideranno sul campo acli panionio savellino a seguire alle 15 e 30 bari acli mentre sul sintetico di mirabello in contemporanea prima lazio juve stavia poi sarà la volta di pescare la rappresentativa figici molise alle 16 e 30 si affronteranno le perdanti delle gare e alle 17 e 30 le vincenti domenica a partire dalle 15 il via alle fasi finali in concomitanza si giocheranno la finale settimo ottavo posto a mirabello quinto sesto posto a ripalimosani terzo quarto posto sul campo acli e in finale 16 sul sintetico delle acli si giocherà la finale per il primo e secondo posto a seguire la manifestazione si concluderà con le premiazioni ai nostri microfoni per le acli campobasso il tecnico peppe delia il torneo ha un carattere internazionale in quanto ci sarà una squadra greca oltre la lazio al bar e al pescara e quindi per noi è un momento di come dicevi tu di confronto dove ci andiamo a verificare con il lavoro svolto da società professionistiche e così per dare anche la possibilità ai nostri ragazzi ma è tutti i ragazzi del molise perché mi piace far rilevare che la partecipazione alla rappresentativa molisane dove c'è possibilità appunto a tanti ragazzi del molise di confrontarsi con realtà professionistiche per cui è sempre così piacevole vedere quelle che sono le proprie possibilità la soddisfazione dello staff tecnico sta quando i ragazzi vengono notati al di fuori dei confini regionali vedi che vi immagri con il chievo vedi cianci convocato comunque con la nazionale corbo e così tanti quindi è stata una stagione strepitosa per le acli ma sì ma io dico che il lavoro di settore giovani non è un lavoro finalizzato al risultato è un lavoro finalizzato a quello che è la possibilità di dare così a dei ragazzi che sono meritevoli il modo di poter emergere a livello nazionale i nominativi che hai fatto sono i nominativi degli ultimi anni che ci fa piacere così ricordare perché sono i più recenti però non dimentichiamo tutti gli altri nei 40 e passa anni di storia delle acli che abbiamo avuto la possibilità di portare a livello nazionale ieri sera al poce di riccia per il torneo madonna del carmine sono scesi in campo le formazioni del girone c netto 8 a 0 di tabacchi del re decorata sul villaggio turistico ciocca avvincente la seconda gara che ha visto fuori gioco superare 4 a 3 master car il torneo riprenderà lunedì con le squadre del girone a calcio a 5 nella prossima stagione il molise non avrà più una squadra in serie a 2 l'isernia dopo 10 anni di attività è giunta alla fine del suo percorso si chiude un ciclo per il futsal molisano la esernia calcio a 5 dopo 10 anni di attività continuate con grandissime soddisfazioni dalla serie c2 alla coppa italia regionale alla vittoria dei campionati di c1 e serie b con la salvezza ultima maturata nel torneo di a2 chiude ufficialmente la sua attività una notizia annunciata ma che comunque lascia grande rammarico e amaro in bocca in tutto il mondo sportivo molisano e non ad annunciare definitivamente la chiusura il presidente antonio di franco vero punto cardine di questo decennio di futsal di franco annunciato in una nota stampa la rinuncia a proseguire al timone del team bianco celeste il patron ha provato in tutti i modi a salvare il salvabile proponendo il titolo di a2 alle squadre che il prossimo anno giocheranno in serie b ovvero il venafro il campo basso e l'isernia calcio a 5 ma non si è giunti a nessun tipo di conclusione positiva una sconfitta questa della esernia calcio a 5 che va però ricercata in diversi fattori in primis la totale assenza di una struttura adeguata per ospitare un campionato di a2 la palestra di miranda sede per anni della compagine di calcio a 5 non è più idonea e necessita di lavori importanti inoltre la totale assenza secondo patron di franco di un aiuto dalle istituzioni regionali e comunali l'amministrazione comunale di sernia ci ha ignorato in tutti i modi possibili facendoci capire chiaramente la sua indifferenza e la sua assenza negli ultimi due campionati disputati queste le parole virgolettate oltre a queste premesse anche il momento di difficoltà economica e l'assenza di un aiuto vero per far proseguire la vita della esernia calcio a 5 questo il quadro che ha portato alla chiusura e alla rinuncia dopo anni di gioie e vittorie un vanto quello del campionato di a2 che dalla prossima stagione il molise non potrà più esibire a margine delle problematiche elencate dal presidente di franco urge la solita riflessione a cosa serve arrivare a questi livelli giocare qualche anno e poi fallire assolutamente a nulla la riflessione è sul calcio in generale e su quello molisano in particolare ancora una volta ci troviamo dinanzi a un fallimento ne abbiamo visti tanti troppi tra calcio e calcio a 5 negli ultimi anni bisogna giocare divertirsi nella categoria che una società si può permettere non serve arrivare in alto e poi fallire meglio una costanza e una permanenza in categoria anche più bassa ma offrire continuità negli anni solo una volta ottenuto un insediamento costante in una categoria si può pensare di alzare l'asticella dicendo questo non vogliamo scaricare alcun tipo di colpa all'esernia calcio a 5 ma la realtà ahimè è sempre la stessa e francamente di fronte a un fallimento resta ben poco dei risultati acquisiti con merito sul campo l'isernia calcio a 5 farà compagnia al venafro e al campo basso in serie b la squadra pentra nella fase nazionale playoff ha eliminato puglia basilicata e sicilia ne abbiamo parlato con potena francesco potena bagnato stanco sudato ma questa è una grande vittoria bellissimo bellissimo abbiamo lavorato duramente più di due mesi per raggiungere questo obiettivo che alla fine con tanto sacrificio è arrivato siamo contentissimi soprattutto per il presidente che ha fatto tantissimi sforzi e le abbiamo regalato credo una gioia immensa oggi se io ti dico aprile pensi alla sconfitta con la win e piangevate tutti quanti adesso piangete ma sono lacrime di gioia di gioia sicuramente ti ripeto sono stati due mesi di lavoro durissimo un mister che ci ha dato veramente tanto ci ha aiutato tantissimo per raggiungere questo traguardo ma la soddisfazione più grande è che siamo stati primi a portare in alto il nome della nostra regione è vero adesso inizia il bello perché penso che non vi vorrete fermare no assolutamente no siamo solo all'inizio speriamo adesso ci godiamo la festa poi per il futuro non c'è tantissimo tempo ma un po' dobbiamo adesso pensiamo la festa mountain bike c'è tempo fino a venerdì alle 20 per iscriversi a primo memorial carmela battista xc eliminator in programma mirabello domenica 29 la quota di iscrizione di 12 euro con l'intero ricavato che sarà devoluto all'ail di campo basso malevento sposa anche la campagna dell'apis e addamo potranno iscriversi alla gara i tesserati master della federazione ciclistica italiana e degli enti riconosciuti il modulo è sul sul sito matese mountain bike calcio giovanile ancora la società sanniti prosegue il suo lavoro anche d'estate il club del presidente angela baranello ha dato la possibilità ai piccoli di lavorare in maniera particolare sulla tecnica di base ai nostri microfoni uno degli istruttori massimiliano nunez istruttore dei piccoli amici della società i sanniti è stata una stagione intensa ricca di soddisfazione anche perché in tanti hanno creduto nel vostro progetto se diciamo che siamo soddisfatti questo è il terzo anno di diciamo di scuola calcio per cui abbiamo raggiunto un numero diciamo buono di i bambini quindi di piccoli calciatori ecco in questo caso qui io mi occupo sono responsabile dei piccoli amici quindi diciamo i bambini che sono 2006 2007 2008 ed è stata una bella stagione anche con l'intramezzo del torneo che facciamo per i piccoli amici quindi tutti insieme con i sanniti con la manifestazione che è stata molto molto bella insomma per cui anche quella c'è la tua soddisfazione naturalmente la continueremo anche con col campus che faremo qui in collaborazione con la baita dove anche nelle ore diciamo di campus ci sarà un nostro tecnico luca giandotti un tecnico qualificato insomma conosciuto anche con le forze dei migliori giocatori di calcetto che ci sono a camombasso che ci sono stati a camombasso per cui dedicherà il suo tempo d'ora e mezza per per fare tecnica calcistica diciamo ai bambini ragazzi per le due ore e mezza diciamo durante la giornata una categoria particolare definiamola così perché sono per l'appunto piccolissimi e bisogna insegnarvi in questo caso la disciplina del calcio però tramite il gioco ed il divertimento sì questo è proprio diciamo proprio l'inizio del calcio per cui i bambini sicuramente quello che bisogna fare attenzione è l'aspetto motorio quindi le capacità le coordinative quindi è da lì che si parte quindi tutto quello che si fa lo si fa per gioco naturalmente lo si fa con il pallone perché il bambino quando vede il pallone che è dentro la porta e quindi gonfia la rete è la sua soddisfazione per cui tutto quello che facciamo lo facciamo per gioco ma naturalmente tenendo conto degli aspetti motori degli aspetti educativi o sportivi che sono una cosa importante insomma proprio per socializzare con gli altri per comandarsi con se stessi per iniziare a capire che significa socializzare far partire una squadra con le giuste motivazioni insomma Ancora per il calcio regionale in programma domani alle 17 l'inaugurazione del campo di gioco di nuova Cliternia in campo due formazioni di vecchie glorie della Cliternina dagli anni 70 agli anni 90 un'occasione di festa per tutta la frazione di campo marino che anche nella prossima stagione sarà tra le protagoniste del campionato d'eccellenza. I controlli cardiaci sono indispensabili per chi pratica sport ai nostri microfoni il dottor Musacchio dell'ospedale Santimotio di Termoli Siamo con il professore Emilio Musacchio direttore del reparto di cardiologia del presidio ospedaliero Termoli Larino sono importanti i controlli in particolare per quanto riguarda gli sportivi? Certamente gli sportivi hanno una peculiarità per cui magari sono portatori di malattie occulte del cuore oppure di aritmie molte volte possono diventare maligne e quindi necessitano di una diagnosi precoce perché molte volte passa inosservato anche dal cardiologo clinico vedi per caso il caso di Morosini di Pescara, il calciatore del Livorno che è deceduto senza un intervento adeguato quindi la diagnosi gioca un ruolo fondamentale per quanto riguarda la prognosi degli sportivi che è scontato che loro hanno un'attività fisica con una portata cardiaca enorme e quindi vanno seguiti e vanno scagionate la presenza di aritmie maligne Parliamo di sportivi, in tanti qui a Termoli continuano ad arrivare anche da fuori regione? Beh certo, molte volte il paziente o il presunto paziente nel suo pellegrinare magari può trovare chi si dedica e chi riesce a vedere il pelo dell'uovo che erroneamente non è stato visto prima quindi qui vengono anche sportivi a livello nazionale e quindi noi siamo onorati di offrire l'assistenza non solo ai cittadini molisani ma anche e soprattutto ai pazienti che vengono da fuori vorrei ricordare che qui è il centro di riferimento per le aritmie cardiache e la prevenzione della morte cardiaca improvvisa Ricordiamo, in base anche al nuovo piano di riordino ci sono le condizioni per mantenere questi servizi, questi presidi qui a Termoli? Veramente questo è un posto, questa cardiologia di questo ospedale e anche tutto l'ospedale ha un'affluenza sempre maggiore di pazienti rispetto agli altri ospedali qui la gente viene, c'è un'affluenza enorme e quindi praticamente noi dovremo essere in grado di accoglierli e di contrastare, diagnosticare e contrastare le malattie e quindi insomma la situazione speriamo che per quello che ci riguarda non sia così drammatica per il bene del cittadino Per Lisernia, Falzarano ieri in Molise per discutere di una acquisizione societaria se andrà a buon fine questa acquisizione associerà la sua azienda alla squadra di calcio dell'Isernia potrebbe essere questa una buona notizia per il calcio bianco celeste bene è tutto per questa edizione del nostro TG Sport buon pomeriggio buon pomeriggio